Il loro destino di fiori divine, di russureggianti rose, non avrei potuto scrivere in quel momento nulla che riguardasse i fiori perché io stessa ero diventata un fiore, io stessa avevo un gamba ed un animo fa sempre. Non c'era niente dentro il nostro amore, c'era soltanto un intero verso l'ora. Non c'era niente dentro il nostro amore, c'era soltanto un intero verso l'ora. Tutte le staglie finiscono bene.